Fumata bianca della prima commissione dell'ARS all'indicazione del governo regionale riguardante l'incarico di commissario straordinario della Camera di Commercio di Ragusa per l'onorevole Sebastiano Gurrieri. A darne notizie è stato ieri sera l'onorevole Nello Di Pasquale, lista crocetta. L'incartamento è stato adesso trasmesso alla Presidenza della Regione per la ratifica finale, dopo l'indicazione arrivata nelle scorse settimane da parte della Giunta di Governo. Si chiude così una vicenda cominciata nel dicembre scorso con le dimissioni del Presidente Sandro Gambuzza e di sette consiglieri camerali. Dimissioni che avevano sancito di fatto una rottura insieme all'organo camerale Ibleo e i cui prodromi si erano registrati tre mesi prima in occasione della nomina del modicano Peppino Giannone alla Presidenza della SAC. Adesso si apre una nuova pagina per la Casa delle Imprese ragusana. Il neocommissario avrà il non semplice compito di gestire la Camera di Commercio in una fase delicata e complessa con interi settori dell'economia ragusana fortemente segnati da una crisi economica che forse non ha conosciuto precedenti in passato.